La settimana sta procedendo nel verso giusto, abbiamo recuperato qualche infortunato, quello che dico è che bisogna per battere la Samba bisogna stare al 100% in tutte le situazioni, sia quelle tattiche, tecniche, ma soprattutto caratteriali perché in campo ci vorrà tanta grinta e tanta determinazione se non mettiamo quello saranno dolori, quindi dobbiamo assolutamente prepararci ad affrontare una battaglia Chi non avrai sicuramente a disposizione? Sicuramente non avrò Pier Gallini Noi stiamo affrontando ogni partita, la giornata, sappiamo che tutte le squadre che affrontiamo sono più forti di noi e quindi dovremo mettere tanta determinazione in campo, con la Samba lo sarà ancora di più Penso che sanno che è una squadra forte e quindi bisogna mettere in campo quel pizzico in più di cattiveria perché altrimenti sono dolori La Maceratese è una squadra neopromossa che a questo punto del campionato si trova prima in classifica, te lo saresti mai aspettato? No, assolutamente perché me lo auguravo, io ho molta fiducia nella mia squadra sapevo che possiamo fare un bel campionato però che dopo questo inizio fossimo prima in classifica non ce l'aspettavo nessuno comunque finora i punti che abbiamo ce li siamo guadagnati tutti sul campo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti